È Natale per tutte queste situazioni, soprattutto per tutte queste persone di sofferenza, di difficoltà. Un Natale così che viene vissuto in modo paradossale da queste persone. Ma anche in queste situazioni c'è il messaggio della speranza del Natale. Proprio oggi, nella celebrazione della Messa, c'erano due letture che facevano riferimento a due donne, due mamme sterili, che vivevano la sofferenza di non poter essere madri, cioè non poter generare, non poter accogliere e donare vita. E queste due mamme, nella simbologia biblico-liturgica, in qualche modo rimandano proprio alla realtà della nostra umanità, che è sofferente e vive la difficoltà di accogliere e poi condividere e donare vita.